eccoci qui di nuovo altro segnaletto buono adesso vediamo cosa c'è sto riprendendo fiato un attimo perché c'era un pezzettino di salita allora segnaletto buono vediamo qua cosa abbiamo dove cosa c'è boh aspetta 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 vediamo qua c'è una monetina eccola qua eccola qui cosa abbiamo di bello non si capisce un oscellino austriaco 1997 un oscellino austriaco ma questo lo mettiamo nella collezione del dei pre euro franchi svizzeri franchi francesi è interessante un anello e un oscellino direi che può essere una zona abbastanza interessante e allora niente ci vediamo al prossimo target ciao